Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bezaida, di Galilea, e gli domandarono Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro, è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla, che era presente, aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, un angelo gli ha parlato. Gesù disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo, per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Ancora una volta Giovanni ci guida. Ci avviciniamo alla Pasqua e in questa pagina i biblisti hanno ritrovato, in un certo senso, l'orto degli ulivi, secondo Giovanni. Giovanni non ci racconta la preghiera di Gesù nell'orto, nel giardino del Gezzemani, ma ci racconta questo brano. Questo brano in cui Gesù vive la sua obbedienza al Padre. Ed è molto interessante lo sviluppo di questo brano, perché alcuni greci vogliono vedere Gesù. È molto bella questa invocazione. Dicono a Filippo, Filippo sentì un nome greco, forse parlava anche il greco sicuramente, alcuni greci vanno da Filippo e dicono vogliamo vedere Gesù, che è proprio una bellissima invocazione anche per noi. E poi Filippo lo va a dire Andrea e tutti insieme vanno da Gesù. E Gesù allora vede questo incontro con questi greci, con questi pagani oppure questi ebrei di lingua greca come il segno che è giunta l'ora, la sua ora. Infatti lui dice è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. Nel linguaggio giovanneo la gloria è la croce, cioè è giunta l'ora di salire in croce. E allora Gesù prende questa piccola parabola, questo simbolo del chicco di grano, molto bello anche questo, se il chicco di grano non muore non porta frutto. Ecco allora il chicco di grano è lui che deve morire per portare molto frutto. E poi dice ecco qui il momento difficile, no? L'anima mia è turbata, come dicono appunto gli altri Vangeli nel roto degli ulivi. E che cosa dirò? Padre salvami da quest'ora. Sentite che sono le stesse parole, padre passi da me questo calice. E poi è come un dialogo con se stesso. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora, cioè io sono venuto per questo sulla terra. La mia vita è tutta finalizzata a quest'ora, al dono supremo di sé. Padre glorifica il tuo nome. Ecco i sinottici diranno sia fatta la tua, non la mia, ma la tua volontà. Nel linguaggio giovanneo padre glorifica il tuo nome. Cioè che vuol dire? Io aderisco a questo impegno, a questa chiamata di dare la mia vita per il mondo. E allora c'è proprio una voce dal cielo, cioè come la risposta di Dio. L'ho glorificato il mio nome e lo glorificherò ancora. Una specie di tuono per cui gli altri dicono la folla, la folla presente dice che c'era un tuono, un angelo gli ha parlato. Gesù dirà è il segno che è arrivato il giudizio di questo mondo, cioè perché la croce è segno di salvezza per Giovanni e anche segno di giudizio, segno davanti a cui ci si divide. Se accogli la croce ti salvi, se la rifiuti ti autocondanni, ti escludi dalla salvezza. E poi questo bellissimo versetto, quando sarò innalzato da terra, appunto sulla croce, attirerò tutti a me. Ecco la croce come, come dire, il luogo finale, la meta attorno a cui tutti, cioè tutta l'umanità finalmente unita si può raccogliere in quell'unità che Gesù chiederà nel capitolo 17 di Giovanni, nell'ultima sera della sua vita, che tutti siano uno. E questo uno, questa unità si realizza intorno alla croce e sappiamo che per Giovanni sotto la croce ci sono Maria e il discepolo che lui amavano, appunto Giovanni l'Evangelista, che rendono presente, che rappresentano tutta la nuova umanità che da quel sacrificio, da quel dono di sé che è la croce, inizia a radunarsi, inizia a formarsi. Ecco in questi giorni ultimi di Quaresima siamo chiamati proprio a contemplare il crocifisso ancora una volta, sempre di più, a entrare in quel mistero di amore e a accogliere la chiamata a riunirci tutti, al di là delle differenze di età, di cultura, di ceto sociale, di nazionalità, a riunirci tutti intorno alla croce di Gesù. Grazie al suo sacrificio possiamo diventare fratelli, come ci ha detto anche Papa Francesco, fratelli tutti, perché c'è stato qualcuno che ci ha riconciliati definitivamente con Dio e fra noi.